eccoci ragazzi bentornati sul mio canale oggi è il giorno di ipad mini settima generazione oggi 23 ottobre esce il nuovo dispositivo un aggiornamento hardware di quello che abbiamo visto tre anni fa vedremo bene tutte le caratteristiche tecniche prezzi colori e quant'altro poi ovviamente se avete dubbi o domande scrivete qui sotto nei commenti come sempre un bel mi piace per supportare il video e per far crescere il mio canale in descrizione oltre ai miei social troverete anche lo sponsor del video che nebba ogni acquisto che farete tramite il link in descrizione sopporterete il mio canale vuoi risparmiare una maria di soldi perché troverete il cashback fino al 12% videogiochi nuovi videogiochi del passato scontati ma anche gift card con cui potrete comprare non solo videogiochi di abbonamenti ma anche su amazon itunes netflix spotify con tantissime offerte approfittatene ma direi di partire innanzitutto dall'ipad mini che come sapete quest'anno dopo tre anni da quello che conoscevamo e vi rivedremo anche le novità rispetto al 6 aumenta leggermente di prezzo la versione base parte da 609 euro 4 le colorazioni il grigio siderale il blu il viola e il galassia sono diciamo più slavati rispetto a quelli che conoscevamo rispetto alla versione precedente infatti già ad esempio se vedete il viola è molto più slavato i tagli saranno da 128 gigabyte 256 gigabyte fino ad arrivare a 512 con il prezzo che arriva a 989 euro non ci sarà infatti è stato tolto il modello da 64 gigabyte di base e poi ovviamente abbiamo le due versioni la wifi con che si parte ovviamente da 609 se no anche la cellula da 779 euro questa è ovviamente la schermata come abbiamo visto anche nei giorni passati sulla presentazione dell'ipad mini che arriva direttamente dal sito ufficiale che conferma l'arrivo e del potenziamento soprattutto dell'hardware perché a livello estetico non è cambiato praticamente nulla quindi sotto questo aspetto ragazzi non vedremo neanche il face id e non vedremo quindi la possibilità di sbloccarlo come abbiamo visto sugli iphone o eventualmente anche sull'ipad però resterà il touch id come sblocco con display retina da 8,3 purtroppo refresh rate che rimane ancora a 60 hertz e con 500 nit di picco ma andiamo a vedere questa grafica dove possiamo vedere bene tutte le novità delle pad mini 7 le pad mini 7 come novità sinceramente più importante avrà il chip a 17 che come sapete è stato introdotto nei modelli l'anno scorso dell'iphone 15 pro il chip a 17 pro sarà disponibile quindi nelle pad mini 7 con una però gpu a 5 core invece che una gpu a 6 core però apple ha confermato che avrà prestazioni fino al 30 per cento più veloci rispetto al modello precedente giusto per rinfrescarvi la memoria il modello precedente aveva una 15 bionic quindi il salto è molto importante altra cosa che potete vederne le caratteristiche tecniche il raddoppio della ram si passa dagli 8 gigabyte dai 4 gigabyte agli 8 gigabyte di quest'anno e tutto questo permetterà di far girare in maniera senza problemi ovviamente l'apple intelligence apple intelligence che arriverà prossima settimana con ios 18.1 con alcune funzioni di cui abbiamo già parlato nei giorni passati trovate un video dedicato poi tornerò sicuramente a ridosso dei rilascio con un video di aggiornamento apple intelligence che non sarà disponibile in italia noi la vedremo solo a partire dal 2025 altra cosa che voglio dirvi oggi con l'aggiornamento meglio con l'uscita delle pad mini 7 ci sarà anche un aggiornamento versione ios 18.0.1 perché le pad mini 7 uscirà con ios 18 ma il 18.0.1 lo dovrete installare quello risolve principalmente quel problema che già c'era che abbiamo conosciuto relativamente poi alla sincronizzazione con l'apple watch che crashava in alcune situazioni vi posso confermare il supporto all'apple pencil pro che quindi anche questo step è stato fatto e anche la funzione apple pencil over con la possibilità della gestione del tratto dell'apple pencil sullo schermo prima che l'accessorio tocchi lo schermo è stato risolto da quello che sembrerebbe se n'era parlato veramente tanto tempo fa sul modello precedente il gel scroll sul display sembrerebbe che sia completamente stato rimosso su questo dispositivo quindi un taglio da 8,3 rimane ancora un lcd come sapete l'oled è sull'ipad pro refresh rate a 60 hertz e con il touch ad la fotocamera resta pressa che identica 12 megapixel come modello e ovviamente poi troveremo lo smart hdr4 e poi il pencil pro e l'apple pencil uber migliora il wifi che non arriva al 7 ma fa un upgrade dal 6 al 6 e e c'è un upgrade anche del bluetooth che passa dal 5.0 al 5.3 batteria identica non è stata per nulla migliorata se rimane sempre con la stessa durata del modello precedente l'usbc che migliora tagli come abbiamo visto 64 256 128 256 512 nel nuovo modello tutti i modelli cellula dell'ipad mini 7 da quello che leggevo non disporranno dello slot per le schede nano sim ma si affideranno alla tecnologia e sim digitale da quello che poi mi ero appuntato tra le altre varie informazioni e relativamente al dispositivo ci sarà supporto per final cut pro che quindi sarà disponibile con il nuovo ipad ed inoltre come già vi ho detto lo smart hdr servirà per fare le foto in hdr migliorate rispetto allo smart hdr 3 che c'era su quello precedente apple garantisce foto ancora più dettagliate e vivide ovviamente ragazzi parliamo sempre di un tablet con un'unica fotocamera quindi il cambio generazionale o le foto in una determinata maniera non è che ci possiamo aspettare niente di che però per una foto al volo per un ritocco e quant'altro è quello che si può ovviamente vedere gli accessori che abbiamo visto con le pad mini 6 saranno completamente compatibili con il 7 perché non cambia come detto di dimensioni spessore larghezza altezza e quant'altro e quindi ovviamente saranno le nuove colorazioni esempio per le smart foglio ma quelle precedenti ovviamente saranno ancora disponibili come ho detto la cpu sarà 6 core la gpu di 5 core la gpu di un core in meno rispetto al modello dell'iPhone 15 però si parla di un utilizzo di molti dei processori che hanno stati scartati nel processo produttivo dell'iPhone 15 però perché sono chip binnati cioè quando non si arriva alla massima performance di quel dispositivo il chip viene accantonato a una gpu in meno però ovviamente così si riescono anche a contenere i prezzi come ho detto anche l'Apple Pencil Pro sarà supportata sul nuovo tablet mini di iPhone che anche di iPad che ancora non ho capito però come mai non abbiano voluto migliorare almeno il display o almeno mettere il Face ID o quant'altro se è un dispositivo che comunque dovrà avere un'altra e lunga longevità se già il modello precedente ha avuto tre anni quindi un upgrade e un non perché ovviamente dei cambiamenti sono stati a mio avviso vissi solo e soltanto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale gli avrei fatto un upgrade ancora più alto anche perché parliamo di un dispositivo che sta sui 600 euro che è molto più alto rispetto ad un iPad base ma con una differenza di 100 110 euro rispetto ad un iPad Air e quindi la uno comincia un attimo a ragionarci questa ragazza è quello che dovete sapere sul nuovo iPad mini 7 che esce oggi fatemi sapere la vostra nei commenti un bel mi piace per far crescere il canale noi ci vediamo ad un prossimo video